Mirabilandia ha da poco iniziato a festeggiare Halloween, è inizio ottobre, la tredicesima stagione, quindi siamo partiti nel lontano 2010, forse tra i primi nei parchi di divertimento a festeggiare l'Halloween e siamo così orgogliosi di festeggiare quest'anno con tante novità. Il nostro Halloween ha sempre una doppia anima, un'anima per le famiglie, con le streghette, le zucche, dolcette e scherzette, ma un'anima anche molto horror, con diversi tunnel, abbiamo 5 tunnel dell'orrore, due horror zone che aprono alle sette di sera tutti i sabati, il 30 e il 31 ottobre, ma poi un sacco di show. Abbiamo deciso di pulsare veramente tanto sull'intrattenimento, le novità principali sono Jackie Clown e Frankenstein, ma non solo, chiaramente perché abbiamo anche lo spettacolo a teatro, il musical delirium, e poi avremo un'altra grandissima novità, il 29, il 30 e il 31, l'1 e 2 di novembre, avremo uno spettacolo in esclusiva per il nostro parco insieme al mago Antonio Casanova. Quindi invito tutti a venirvi a vedere, perché sarà veramente una novità, è una cosa veramente coinvolgente, perché i protagonisti saranno proprio anche i nostri presentatori. Quindi non mancate e non vediamo l'ora di dare delimento.